E' l'immunoterapia considerata ormai il quarto pilastro nel trattamento del cancro insieme a chemioterapia, chirurgia e radioterapia la nuova frontiera della lotta contro i tumori. Molecole innovative che stanno dimostrando di avere il potenziale per migliorare la sopravvivenza a lungo termine, l'esito clinico di diversi tumori maligni, difficili come il melanoma e il tumore del polmone. Ma in cosa consiste l'immunoterapia? Spiegarcelo Paolo Marchetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica Ospedale Sant'Andrea di Roma e Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. L'immunoterapia rappresenta una nuova modalità di trattamento dei tumori. In pratica riusciamo a ripristinare quelle che sono le difese normali dell'organismo che le cellule tumorali riescono a spegnere. Aver compreso quali sono i meccanismi con cui le cellule tumorali inibiscono la risposta del nostro sistema immunitario contro di loro ha consentito di produrre dei farmaci che hanno proprio questa capacità, quella di consentire al nostro organismo di attaccare nuovamente le cellule tumorali. Oggi effettivamente noi abbiamo degli strumenti che aggrediscono i tumori andandoli ad aggredire nel momento in cui si manifestano e quanto più precocemente li attacchiamo più risolviamo il problema. Abbiamo dei farmaci che vanno a interferire con i meccanismi immunologici e molto spesso risolvono il problema in maniera definitiva. Anche le aziende farmaceutiche in prima linea nello sviluppo di questa nuova frontiera della lotta ai tumori sollecitano nuove regole. Secondo Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia, per permettere a tutti i pazienti di accedere a questa nuova generazione di cure è diventato necessario riformare il sistema sanitario con il superamento del tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e la creazione di un fondo ad hoc.